bello a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra master league con livorno su ps4 signori allora scorso video abbiamo battuto abbiamo vinto non mi ricordo contro chi cazzaro abbiamo vinto però abbiamo vinto signori e vincendo e vincendo signori abbiamo ci siamo portati al secondo posto con due punti di vantaggio sul ren allora 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 a noi basta un pareggio penso penso che pensa la differenza reti forse passano loro per differenza reti non lo so signori col pareggio forse dovremo riuscire a passare però nel dubbio nel dubbio io direi che è meglio puntare alla vittoria quindi scendiamo in campo contro il getafe che sarà un avversario molto ostico signori ma prima di partire il video vi ringrazio per i like per i commenti per il supporto vi ricordo sempre di scrivere al canale andiamo a vedere un attimino la formazione signori allora abbiamo rossetti che non c'è proprio voglia di giocare e quindi arriviamo rossetti e da daniele vicius che carica pallettoni e qua dietro c'è amelia che non ci sta mentalmente e vargas che pure stanco e ne facciamo entrare malara ma malara giusto l'ho detto giusto malara va bene detto questo signori scendiamo in campo e cerchiamo di portarci a casa il nostro siamo a un passo della promozione signori ultima partita del campionato contro il getafe gradirei che non facessimo sciocchezza signori perché riuscire a tenere la promozione sarebbe tantissima roba e poi potremmo andarci a giocare alla finale di coppa di seconda lega in maniera bella rilassata diamo l'ultima possibilità a utaka lì davanti praticamente perché mi sa che utaka a fine stagione fa un bel volo che lo vedono proprio dalle piste di atterraggio proprio decisamente si annaggia utaka signori un flop colossale un flop enorme enorme per neanche mi ricordo quando c'è costato però mi sa di sì mi sa che utaka grandissima amelia avevi a meglio però zio va bene va bene evitiamo il calcio tango riusciamo a ripartire riusciamo a ripartire si riusciamo a ripartire un orgasmo un orgasmo annaggia va bene il nostro è nostra dai 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 ma come loro ma sia un bastardo era mia ma era mia ma era logico era mia grandissimo daniele vicius daniele vicius daniele vicius daniele vicius attenzione il contro movimento avevo segnato avevo segnato con un orgasmo signori di quanto è fuori gioco e si dice ma porca miseria un orgasmo io sei andato fin troppo in profondità zio va bene l'azione però così un pochino esagerato attenzione attenzione utaka ma porca miseria daniele vicius signori mi sta piacendo tantissimo avrà oramai la sua età non sarà più il giocatore che è ma tanta roba daniele vicius daniele vicius mi sta piacendo lo potremmo confermare però fallo fallo c'è la palla della sua io gli sono andato a sbattere di sopra ha dato fallo a noi bravo al mitro così mi piaci così mi piaci proteggici proteggici un orgasmo un orgasmo un orgasmo prova la profondità mannaggia 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 buona buona la palla di un orgasmo per utaka che però c'è la mitaro c'è la mitaro c'è la mitaro c'è la mitaro mannaggia a te c'è la mita che cos'è il ballerino volanti ma che razza di intervento era sì sì i doppi passi fagli a tua sorella giovanna aia va bene va bene riusciamo a regolare sto pallone no sì grandissimo utaka che si sta mettendo in mostra per così qualche squadra lo può trovare va bene va bene un orgasmo passa la pasta l'azio va bene utaka belle movimento di utaka c'è la mitaro 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 c'è la mia ha cercato daniele vicius annaggia peccato peccato deve essere sistemata meglio allora dai 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 calma calma relax calma relax guarda che bastardo che mi ha aspettato che bastardo aspettato che le facesse l'intervento aspettato che mi avvicinarsi per rubar per per farsi per per grandi no da che fallo è mia 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 grande un orgasmo la batte lui la batte lui in cerca di giallombardo giallombardo un altro che farà un volo bello che io parlo tanto di giocatori che faranno i voli ma il problema è al posto di questi chi ci metto attenzione parte il traversone non riusciamo però a concretizzarlo peccato se lì partiva un bel traversone potrebbe essere qualcosa interessante stiamo giocando meglio signori stiamo giocando meglio più rilassati bello no mannaggia non l'avevo visto quello lì dietro calma 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 del tongo del tongo fatti rispettare il tongo fatti rispettare il tongo io vorrei capire perché mi ha cambiato il pallino quando io stavo recuperando il pallone con del tongo però mia mi ha cambiato il pallino appositamente per farmi un attimino perdere il contrasto ce la mi darò un orgasmo un orgasmo daniele vicius daniele vicius utaca 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 il cross mannaggia troppo avanti un orgasmo che però recupera no 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 lì non ci sta più nessuno mannaggia mannaggia lì non ci sta più nessuno abbiamo avuto una buona occasione una buona occasione dobbiamo sfruttarla meglio dobbiamo sfruttarla meglio giallombardo giallombardo dimostra che c'è qualche squadra che ti può comprare non è stata la loro ah no è mia il giallombardo l'aveva pure toccata un pirla completo giallombardo con tutto il rispetto per il giallombardo reale dannaggia se vabbè no 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 a me grandissima melia non so come tu cazzo l'hai fatto a sto passo pallone grandissima melia buttala sotto buttala sotto usiamo la tattica inter vediamo se daniele vicius di testa non ci arriva nemmeno se lo stai no non è vero ma non l'ho toccato ma non l'ho toccato ma stai scherzando stai ma cazzo non la va che cazzo non la fa ha fatto attenzione utaca 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 va bene rimesso laterale rimesso laterale rimesso laterale il nostro il nostro il nostro tra la mitaro per pizzele che la gira indietro mamma mia che brutto pallone che bruttissimo pallone eravamo eravamo messi benissimo del tongo tarara un orgas un orgas un orgas attenzione un orgas un orgas si libera pallone allargato e un orgas stende cubillo si becca il giallo si becca il giallo un orgas e vabbè signori però dai eh vabbè esagerato esagerato l'intervento di un orgas annaggia annaggia mannaggia mannaggia eh non possiamo più fare grossi interventi con un orgas signori questo cartellino giallo pesa questo cartellino giallo pesa dai non è vero pesa non l'ha neanche toccato pure lui ammonito va bene sai che l'albito ha perso un attimino la cognizione del del della partita anche perché stanno manendo solo i miei ma tutto questo utaca c'è ramitaro c'è ramitaro cerca daniele vicius che si allarga daniele vicius daniele vicius daniele vicius daniele vicius daniele vicius annaggia perfel 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 arriva sul fondo il cross utaca mannaggia giambardoni finisce il primo tempo signori 0 a 0 il primo tempo vediamo un attimino lui dovrebbe darmi i risultati delle altre squadre no cosa fa il silvia renna il renne sta perdendo contro il silvia signori questo per noi è manna dal cielo signori il renne sta perdendo contro il silvia questo per noi è un risultato importantissimo allora rimaniamo concentrati e portiamoci a casa almeno il punticino signori almeno il punticino lo voglio almeno il pubblicino non lo voglio così poi potremmo pensare alla coppa che cazzo di passaggio e dov'è daniele vicius perché non c'è daniele vicius su quel pallone a cina anticipo pensare che un orgasse ammonito signori un orgasse ammonito va bene va bene via sto pallone via sto pallone ho chiesto via sto pallone porca miseria ho chiesto via quel grandissimo così no utaca mio devo fare entrare rossetti signori devo fare entrare rossetti possiamo levare ok fermi tutti impostazione formazione cambia formazione allora mettiamo utaca al posto di un orgasse chiammonito al posto di un orgasse entra rossetti se si 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 dai 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 fuori un orgasse chiammonito signori non possiamo fare interventi con lui e non va bene questa cosa grazie zio gentilissimo intelligenza artificiale completamente rincretinita signori mi hanno passato il pallone sulla rimessa laterale grande cia lombardo che cerca rossetti che però non corre abbastanza vediamo se un orgasse se utaca da tre quartista riesce a rendere meglio signori grande amelia grande amelia giocala lì giocala lì giocala lì giocchiamola giochiamo sto pallone giochiamo sto pallone giochiamo sto pallone utaca 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 daniele vicius daniele vicius mio patacarroso 66 un patacarroso nostra dai dai utaca per del tongo del tongo che vede daniele vicius che vede rossetti mamma mia che tiro terribile di rossetti non ha inquadrato completamente niente non è che non ha inquadrato alla porta non ha inquadrato nemmeno lo stadio proprio l'ha tirata proprio fuori con tutti i sensi grande cia cia la mitaro per rossetti che cerca daniele vicius che il movimento guarda poi alla porta il tiro attenzione ancora no rossetti non ci ha creduto abbastanza c'era mitaro se ne va al bar bravo c'era mitaro attenzione grandissimo l'intervento stai scherzando ma che fallo è che ho preso il pallone bravo malera malara come cazzo la te chiami non mi ricordo va bene così ci sei piaciuto ci sei piaciuto grande utaca confondili confondi l'utaca con la tua inutilità confondili dai 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 da 64esimo ancora porca miseria calma del tongo sparapacchia via però sto pallone non arriva da nessuna parte sono ancora loro che spingono come dei dannati porca miseria e tirano fuori va bene così va bene così 66esimo getafe 0 livorno 0 signori con questo risultato e promozione con questo risultato e promozione signori attenzione non fate anticipare bello no gran paratona gran paratona non so chi è che ha tirato chi è che ha tirato non ce lo dice rossetti la va a calciare lui il pallone al centro stacco di testa attenzione attenzione malera 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 cercato utaca che non ci pensa troppo ma fa un straccio bagnato un tiro che è patente uno straccio bagnato non so perché ha tirato così non gli andava signori però utaca forse da trequartista utaca rende di più daniele vicius rossetti camiseria porca miseria che cazzo la fai zio giallombardo dove andando all'altro lato signori una volta è sempre dall'altro lato giallombardo una costruzione semplice una costruzione semplice non riusciamo a farla questo non cade nemmeno ci va qualcuno a contrastarlo per questo non cadeva nemmeno praticamente se ruben reyes attenzione sostituzione per il getafe al quando siamo aggiunti al settantasettesimo signori settantasettesimo del secondo tempo il risultato è fermo sullo 0 a 0 utaca utaca daniele vicius daniele vicius daniele vicius daniele vicius si crea lo spazio daniele vicius daniele vicius daniele vicius grandissimo attenzione la bordata utaca 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 si è creato lo spazio ma che cazzo la di tiro è uta ma porca miseria utaca ancora utaca utaca cerca gambardoni cerca gambardoni che cerca ancora utaca che cerca no daniele vicius sarà buona porca misera era bellissima no di quanto è uscita mannaggia 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 l'ottantatresimo utaca per rossetti per utaca per rossetti signori utaca da trequartista funziona utaca poco da dire poco da dire signori utaca da trequartista funziona riesce a vedere bene il momento dei compagni guardalo come se ne va guardalo come se ne va utaca utaca che vede daniele vicius che decide di fermarsi daniele vicius ne vede uh se sta palla passava gliel'ho data un secondo ritardo un secondo ritardo gliel'ho data se sta palla passava tennino 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 pfzl tennino pfzl che sei più veloce va bene va bene minuti di recupero signori minuti di recupero minuto di recupero il livorno ci crede il livorno ci crede rossetti rossetti lentissimo rossetti rossetti rientra su se stesso rossetti rossetti cerca utaca utaca rientra su se stesso utaca gambardoni ma porca finisce qui signori 0 a 0 tra livorno e getafe attenzione gioco del livorno festeggiano gioco del freddo di loro festeggiano vediamo se stanno festeggiando fin troppo signori stanno festeggiando come se avessero vinto lo scudetto forse siamo riusciti a ottenere la promozione signori forse siamo riusciti a ottenere la promozione attenzione il siviglia batte il rn 3 a 0 signori e ci portiamo a casa la promozione taglie così taglie così signori promozione ce l'abbiamo fatta uno stress è stato questa camminata abbiamo fatto solamente 8 gol allora mele è migliorato perfel è migliorato gianobardo è migliorato del tongo è migliorato c'è la mitare del di migliorato gambardoni è migliorato un orgas è miglioratino utaka non vuole sapere niente rossetti è migliorato e melare è migliorato gli altri però non è entrato nessuno va bene va bene buono 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 siamo a 14 858 signore bonus classifica squadra 1.200 bonus giocatore 0 bonus classifica reti 0 bonus classifica stesse 0 totale punti 1.200 ce ne hanno dato ok 14 8 e 50 e la prossima è la finale di coppa signori e la prossima è la finale di coppa quindi siamo a promozione signori ce l'abbiamo fatta obiettivo raggiunto obiettivo raggiunto mi sa di sì mi sa proprio di sì dati dell'avversario vabbè questa è per la finale di coppa sì che al momento non ci interessa al momento decisamente non ci interessa andiamo a vedere un attimino la classifica siamo secondi addirittura il Norenberga rischiava di fregarci non l'avamo considerato il Norenberga per un punticino riusciamo a ottenere la seconda posizione e ad andare in serie A signori quindi detto questo io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like e per i commenti precedenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao